Quest'anno arriviamo alla diciottesima edizione. Sono stati anni molto impegnativi per l'Associazione Prologo e l'Amministrazione Comunale di Tossicia, che assieme al BIM sostiene questa bellissima iniziativa. Quest'anno abbiamo il pittore Amedeo Marchetti, che tornerà a dipingere uno splendido murales nella piazza di Azzinano. Inoltre, venerdì 27 luglio, partirà la festa della lavanda. Quindi i bambini, come ormai da tradizione, vestiranno abiti da contadini e gireranno per le vie del paese vendendo i prodotti che sono stati realizzati dalle signore del paese con la lavanda. Amedeo Marchetti, che è di Trento, è stato uno dei primi, anzi un pianiere proprio, che ha impostato proprio lui il lavoro insieme ad altri due o tre pittori. E' periodicamente ospite di Azzinano, essendo due o tre anni che non veniva, c'era un murales che avevamo intenzione di rivedere oltre a farne di nuovi. E quindi è venuto soprattutto per questo, perché i murales di Azzinano sono conservati benissimo, grande attenzione da parte della cittadinanza. Quando c'è qualche problemino o interviene l'Accademia di Belle Arti, come succederà tra qualche tempo, oppure lo stesso autore che ha fatto la pittura.